buonasera allora anche miss smoke saluta allora faccio la terza parte del video sui defunti e sull'oltre perché ogni tanto riprendo l'argomento sempre in base alle cose che mi arrivano durante la giornata agli input e via dicendo sì lo so sembro la pina di fantozzi questa pettinatura nel secondo tragico fantozzi quando si innamora del panettiere che si fa la pettinatura lo schiaffo dicevo allora ci sono tanti tanti punti che ancora non sono chiari che spesso mi ritrovo nelle domande sia anche qui su youtube come su altri social e via dicendo o anche in real e quindi ogni tanto riprendo l'argomento avevo detto che comunque era un argomento lungo quello dei defunti perché ci sono tante domande su di loro allora intanto ieri evento fuori l'argomento sulle incarnazioni da reincarnazioni dei dei nascituri no e quindi dalle dalle scusate stasera minceppo dalle tempistiche di entrata dell'anima nel corpo in creazione e via dicendo un discorso abbastanza complesso allora non c'è anche qui come nulla quasi che riguardi l'oltre e bossolo diceva in un suo video che a me fa piegare da ridere prima c'era il limbo dopo l'avete tolto siete riusciti a creare gli esodati anche in paradiso e in effetti ha ragione nel senso che noi esseri umani terrestri abbiamo la pessima abitudine di pensare che siccome di qua viviamo sotto a delle leggi e a delle regole debbano per forza esserci anche di là nel momento in cui cerchiamo di pensare che di là le regole non ci sono che di là le leggi non ci sono che di là non c'è nessuno a cui non gliene frega la mazza di quello che fai rimaniamo spiazzati ed è per questo che la razza umana si attacca alle fedi religiose perché ha paura di prendere le sue proprie responsabilità appioppando la responsabilità di ciò che è o di ciò che fa a un ipotetico dio o antagonista di esso se faccio bene grazie a dio se faccio male sono stato istigato dal male no sei stronzo tu sei buono tu nessuno ti ha spinto nessuno ti ha convinto a fare qualcosa un po come quei genitori che se la prendono con gli amici dei figli non frequentare quello perché una cattiva compagnia no non è la cattiva compagnia che porta tuo figlio a fare qualcosa se tuo figlio fa qualcosa lo stronzo è lui la compagnia non c'entra niente se non voleva non lo faceva anche se aveva la compagnia ha richiuso a parentesi e che con gli esempi della vita terrena mi viene più semplice spiegarle cose dicevo non ci sono regole per quanto riguarda il momento in cui l'anima entra nel corpo che si sta andando a creare ex novo questo cosa vuol dire vuol dire che nel momento del concepimento del corpo fisico che avviene per metodiche puramente biologiche non c'è nulla di miracoloso ma è biologia spicciola e incastramento di cellule mettiamola sul semplice una volta che comunque questo guscio questo involucro inizia a formarsi l'anima al suo interno potrebbe entrarci da subito potrebbe entrarci dopo un mese dopo tre mesi dopo sei mesi un secondo prima che questo corpo esca dalla madre addirittura ci sono dei casi nei quali l'anima c'entra qualche secondo dopo che è già nato e da lì quando ci sono per esempio quei casi nei quali il bambino viene dichiarato nato morto e poi dopo tre quattro secondi un minuto comincia a piangere per gli affari suoi e non è più morto è perché era nato un involucro vuoto e un'anima c'è entrata dopo che era già uscito ci sono anche involucri che non vengono riempiti spesso e volentieri quando ci si trova di fronte ad aborti spontanei può essere non sempre ma può essere il caso di un involucro vuoto quindi un involucro nel quale un'anima non c'era andata a finire non c'è non ci si era incarnata era vuoto quindi non c'è una regola specifica quando le religioni dicono che fino al terzo mese non c'è l'anima fino al sesto mese fino al quinto fino tra l'all'altra sono tutte emerite cavolate non c'è una regola quindi non si può sapere potrebbe non esserci fino al nono un'anima dentro e potrebbe esserci già da subito mentre ancora siete lì che vi state divertendo a creare il corpo fisico e non non c'è un momento religioso che ci dà delle date e dei tempi la cosa più assurda che possano esserci sono le date quando si tratta di le date e i tempi quando si tratta di animismo perché ripeto nell'oltre il tempo non esiste e di conseguenza nell'oltre non gliene frega la mazza a nessuno del tempo non ci sono regole temporali come chi dice la reincardazione almeno deve passare un anno almeno devo passare tre anni ma perché ma quando mai io mi posso reincarnare adesso crepo e dopo tre secondi sono reincarnata oppure mi posso reincarnare tra duemila anni o posso decidere di non reincarnarmi mai e farmi via farci miei di là ma ma chi me lo impone queste sono ripeto le 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 stupidaggini che raccontano che raccontiamo noi esseri umani per dargli delle regole dove regole non ce n'è perché non siamo capaci a vivere senza che poi è lo stesso motivo per il quale sono nati i grandi libri religiosi della storia dal corano alla bibbia fino arrivare a rotoli vari scritte ebraiche vatte la pesca tra l'alla proprio perché perché l'essere umano ha bisogno ha un bisogno intrinseco di essere guidato da delle leggi non è capace a guardarsi allo specchio e giudicarsi da solo e ma non ci riusciamo neanche adesso perché se la gente imparasse a giudicarsi da sola si vivrebbe molto meglio e si eviterebbero tante ciarlate inutili per la strada purtroppo no dicevo appunto quindi non c'è una regola per la l'inserimento di un'anima in un corpo nuovo succede anche appunto come dicevo che possa addirittura andarci sia a infilare un'anima dopo che il corpo è già uscito dopo pochi secondi dopo pochi minuti per una questione meramente biologica perché se fosse lì da qualche ora quel corpo li entra in rigor mortis e anche se c'entra un'anima non essendo né sailor moon appunto né udini non lo potrebbe mai far rimuovere ma se il corpo è ancora caldo c'è sta cosa succede alle anime in generale quando muoiono cioè quando il corpo fisico muore quando si tratta per esempio di aborti spontanei di aborti cercati di morti in culla e via dicendo perché un'anima che comunque era già in un corpo adulto parlante ragionante e via dicendo continuerà comunque per un certo periodo finché non ricorda il resto della situazione precedente alla sua nascita alla sua ultima nascita grosso modo riuscirà comunque ad avere un minimo di movimento dall'altra parte riuscirà a ragionare via dicendo un'anima che stava che si era già incarnata in un corpo piccolo ancora non in grado e non capace di parlare ragionare via dicendo prima di ricordare al meglio come funzionava nell'oltre precedentemente a quella reincarnazione ci vorrà una bella vagonata di attenzione studio e regressione animica di conseguenza tenderà a fare più delle cose di istinto che non di raziocinio infatti i bambini mai nati così vengono chiamati almeno così io li chiamo poi oh non è che vengono chiamati io li chiamo così i bambini mai nati quindi i bambini appunto che hanno subito un aborto spontaneo o un aborto voluto rimangono sempre e comunque intorno alla propria madre fino al giorno in cui questa mamma non sarà di là anche lei una volta che sarà di là e l'avranno vista e conosciuta prenderanno poi comunque le loro strade e continueranno i loro percorsi ma aspettano diciamo questo periodo della terza nostra dimensione e attendono l'arrivo della mamma rimanendogli intorno spesso mi dicono ma io però non lo sento ma io però non lo avverto specialmente le mamme che appunto l'hanno perso involontariamente questo perché non sono capace a utilizzare così tanta energia da farsi sentire o farsi notare e comunque in generale questo anche per quanto riguarda i defunti diciamo adulti i defunti nostri in generale persino per chi è medium quando siamo direttamente interessati alla persona che è venuta a mancare quindi un nostro caro personale normalmente non riusciamo ad avvertirlo questo perché la mancanza è talmente elevata il pensiero è talmente distorto dal dolore stesso che noi proviamo che non riusciamo a percepirne i segni è per questo che molti defunti nonostante magari abbiano legami con persone medianiche o persone che potrebbero sentirli in realtà poi vanno da altri medianici da altri medium un mio defunto da me non ci viene mai va sempre da alcune mie colleghe per esempio da portargli i messaggi per me perché io sono troppo coinvolta a livello emotivo e lo stesso discorso vale perché tanti mi chiedono ma come mai io sogno il vicino di casa che è morto l'amico che è morto il personaggio dello spettacolo che è morto ma che ne so mio nonno non lo sogno mai perché sei emotivamente coinvolta e quindi a te non riesce a connettersi poi ci sono dipende anche da che livello hai di emotività e di coinvolgimento perché se mi è morto il nonno ma a me del nonno non me ne fregava niente magari lo sogno pure cioè è tutta una questione proprio personale e sentimentale dicevo per cui per quanto riguarda appunto il sentirli anche quando si tratta di persone nate cresciute e defunte dopo quando siamo coinvolti emotivamente ci riesce più difficile a cogliere gli indizi i segni i segnali i messaggi che ci potrebbero inviare quando siamo medianici quando non siamo medianici praticamente non li sentiremo mai per cui diciamo che è uno dei motivi base questo qui per cui non riusciamo a sentire spesso i mainati che invece ci stanno intorno il mainato ha un legame profondissimo solo con la madre il padre non ha un'attinenza nel suo rapporto animico cosa che invece non succede per i bambini già nati a cui poi magari succede qualcosa in quel caso lì dipende dal loro legame diciamo sentimentale e dal loro legame neanche animico però possono stare vicino alla madre come possono stare vicino al padre alla nonna al nonno allo zio a chi gli pare come i defunti adulti io dico adulti e bambini ma è per far capire il momento del trapasso non perché poi l'anima sia bambina o sia adulta cerchiamo di capirci io cerco sempre di usare parole terra a terra per riuscire a farmi comprendere da più persone possibili ma non bisogna prenderle alla lettera sono esempi i miei e ecco poi il discorso un'altra domanda ecco sempre sui defunti che mi fanno in tantissimi è questa porto un esempio perché la domanda varia da persona a persona ma il succo è lo stesso mia sorella sogna sempre nostra madre da me non viene mai oppure mio marito ha sognato mio padre e io che sono la figlia non riesco a sognarlo è sempre un discorso o di canali aperti e medianità della persona che sogna cioè se io sono medianica e tu no è più facile che se il defunto è collegato a tutte e due venga da me che sono medianica perché riesce meglio a connettersi non per altri motivi perché non è lui a scegliere se tu riesci a sentirlo o no sono le tue di capacità che ti permettono di sentirlo o no e quindi chi delle due ha un canale più aperto lo sente e l'altra no fatemene la ragione non è il defunto a scegliere anche lì non è colpa esterna è colpa colpa tra virgolette nostra tutto ciò che succede tutto ciò che ci accade tutto ciò che facciamo tutto ciò che vediamo è solo ed esclusivamente colpa è merito nostro nessuno ha il potere di farci fare cose volontarie o involontarie che siano persino la possessione di un corpo da parte di un defunto ha la necessità di chiedere il permesso all'ospite altrimenti non può neanche diciamo invadere momentaneamente un corpo vivo figuriamoci se può decidere di apparirvi e farvi come nei film quindi sono capacità nostre di poterli sentire e contattare o no inoltre c'è il discorso dei legami che ho spiegato nell'altro video che parla del filo d'argento dei fili rossi d'anima e del cordone d'argento dove appunto spiego che una volta giunti nell'oltre quindi una volta morti di qua non ci interessano più i legami di sangue io posso aver amato mia madre alla follia qua da viva ma una volta che sono di là non mi ricordo manco chi sia perché non è mia parente di là magari di là scopro che i miei parenti di anima sono il lattaio lo spazzacamino e uno che non ho mai visto e conosciuto ma di là io andrò a cercare queste di anime che sono miei parenti animici quindi i miei fili rossi chi non è un mio filo rosso può essere stato parente di sangue può essere stato madre, padre, nonno, zio, cugino di secondo grado fidanzato all'alimentari e marito fino all'ultimo giorno che se non è un mio filo rosso o addirittura il mio filo d'argento una volta di là non ce ne può fregare di meno sarà brutto sarà triste non sarà simpatico da pensare ma è così facciamocene come al solito lo dico sempre facciamocene una ragione per cui ma nonna mi sta vicino se era un tuo filo rosso sì se non lo era non si ricorda manco come te chiami ma non lo posso sapere lo scoprirai tu nel momento in cui sarai di là a meno che non abbia tu delle capacità medianiche e il defunto o il defunto abbastanza energia da riuscire a interagire con la nostra dimensione e a farti in qualche modo capire attraverso sogni indizi frasi attraverso altre persone medianiche con le quali si collega e ti manda messaggi e via dicendo e succede spessissimo e ti fa capire che c'è i parenti di sangue umani possono essere benissimo anche dei fili rossi ma come per tutte le altre cose la regola non c'è quindi non significa nulla essere stati parenti di sangue o aver voluto bene a tizio caio simbrogno sono questioni che non hanno una regola concatenata finisco anche questo terzo video sui rifunti ma siccome i rifunti sono il mio argomento essendo medianica di volta in volta che mi giungono domande anche in giro sempre sulla questione farò ulteriori video che riguardano proprio questo argomento per ora vi do la buonanotte ho appiattito la pettinatura alla signora Pina Fantozzi per fortuna perché mi era venuta un po' troppo elevata e ci vediamo domani per il prossimo video che ancora non so quale sarà se mi lasciate un like mi fate un favore se vi iscrivete al canale me ne fate 4 di favori perché più iscritti ho più riesco a continuare a mantenere il canale aperto se avete domande potete farmele sui social potete farmele qui sotto nei commenti di youtube ci sono tutti i link per trovarmi in fila e ci sono anche i link per trovare eventualmente le vendite dei miei libri arrivo buonanotte ciao